Mi date conferma? Credo che stia partendo la registrazione. Eccoci qui, sono le 11.27, mi scuso con il Presidente per il ritardo nell'avvio della seduta, procedo con l'appello e la consuata richiesta per chi dovesse necessitare di giustifica di volermelo comunicare. Ecco? Presente con giustifica dalle 11.15. Buonissimo. Alleori? Buon giorno presente dalle 11.15, in presenza. Con giustifica, grazie. Borrelli? Buongiorno, presente. Ceresola? Buongiorno, presente dalle 11.15, con attestazione. Cucunato? Sono presente con giustifica dalle 11.15. Graziali? Buongiorno, Bedoni, sostituzione di Graziali, presente. Grazie. Buongiorno. Sottillo? Buongiorno, presente. Prego, Presidente Ecca. Grazie. Allora, io per le 11.30 abbiamo in audizione il secondo punto all'ordine del giorno con l'assessore Tranquilli. vi propongo di vedere velocemente il verbale al punto 1 dell'ordine del giorno, così nel frattempo ci togliamo l'incombenza. Quindi, verbale numero 19 del 2023 del 4 maggio corrente anno, delle ore 11.15. e, diciamo, questi sono in condivisione, naturalmente, i punti esaminati all'ordine del giorno. erano presenti, oltre al sottoscritto, alle ore Borrelli-Cerisola-Cucunato-Sotillo, dalle 11.37 e Grazioli, dalle ore 12.22. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, richiara la seduta aperta alle ore 11.28, regolarmente convocata per le ore 11.40. c'è l'approvazione del verbale, c'è l'esame del secondo punto, che è quello relativo alla votazione della risoluzione Europa in municipio, proposta dagli Europe Direct. Il Presidente introduce l'argomento, la proposta di risoluzione oggetto di lavoro della Commissione in fase redigente, esaminata dalla Commissione prima nella seduta odierna, di prossimo passaggio anche nella Commissione sesta, e lascia lo spazio agli interventi. Il Consigliere Alleori, come approfondito in Commissione prima, condivide l'atto, ma ritiene debbano essere sviscerate le modalità di attuazione della stipula del protocollo d'intesa con l'Europe Direct. Il Presidente Ecca concorda e afferma di aver chiesto agli uffici di cominciare già a lavorare sul tema per una tempestiva messa a terra. Il Consigliere Borrelli distingue tra discussione dell'atto in senso stretto, a suo avviso, ineccepibile nella finalità di avvicinamento dei giovani alle istituzioni europee, dall'elemento di concretizzazione dello stesso che va approfondito. Considera utile avere contezza della numerosità del target ai fini della stesura operativa del protocollo d'intesa previsto per l'autunno. Il Consigliere Cucunato domanda che tipo di valutazioni siano state avviate nella Commissione prima e se in questa sia stata audita la consulta dei giovani. Il Presidente Ecca riporta quanto è emerso nella Commissione prima a cui ha partecipato un accordo sull'atto, assenza di osservazioni formali iscritte, necessità di un monitoraggio costante. Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione con sei votanti, sei favorevoli. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno che era la predisposizione della risoluzione per il PNRR, Toc, quindi per la transizione digitale. Il Presidente introduce l'argomento relativo all'avviso pubblico Toc del PNRR, segnalato dal Consigliere Cucunato, il quale ne chiede la pubblicizzazione e promozione. Procede all'esposizione dell'avviso pubblico, illustrando negli ambiti finalità interventi. Ritiene l'avviso di interesse, nonostante i municipi non risultano tra gli eti destinatari, quanto piuttosto tra i potenziali stakeholder del territorio municipale, nel confronto dei quali il municipio può svolgere da elemento di supporto per il rilancio del settore culturale creativo. Dopo aver introdotto a favore di commissione l'avviso pubblico, procede a condividere la bozza di proposta di risoluzione elaborata funzionalmente all'interredigente. Da lettura della proposta, al termine chiede al Consigliere Cucunato come intende promuovere l'atto. Consigliere Cucunato suggerisce di inserire nel dispositivo, oltre alla pubblicazione sul sito, l'impegno ad attivare le consulte della cultura giovanile, l'osservatorio culturale, associazioni e categorie, attraverso una lettera d'invito evidenziando che il municipio si rende disponibile ad essere partner per attività di coordinamento. Alle ore 12.50 il Presidente, su richiesta del Consigliere Cucunato, accorda una breve sospensione funzionale a svolgere le riflessioni sulla bozza elaborata, che prevede nel frattempo a condividere sulla cartella Teams. Quindi la seduta riprende alle 13.00. La Commissione concorda nella formalizzazione della proposta di risoluzione con l'acquisizione a protocollo. Considerata l'imminente convocazione alla seduta del Consiglio Municipale, il Presidente propone di rimandare gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori ad una prossima seduta. I consiglieri Alleori e Cucunato evidenziano che le sedute di commissione nella giornata di Consiglio comportano un tema di rinvio degli argomenti all'ordine dei lavori. Il consigliere Cucunato ritiene opportuno affrontare i temi di confronto su bandi in sedute pomeridiane. Il Presidente Ecca precisa che tendenzialmente la Commissione si riunisce il giovedì pomeriggio, ad eccezione dei casi in cui vi è convocazione del Consiglio Municipale, per cui su disposizione del Presidente d'Avola si può riunire la mattina. Non essendoci posta, per il punto sesto all'ordine del giorno, il Presidente informa di una richiesta di disponibilità all'assessorato Ambiente e Agricoltura per una seduta congiunta con la Commissione II sul tema delle api e degli insetti in pollinato. Inoltre, salvo altre proposte, propone la ripresa sul tema dello sviluppo dell'agricoltura sul territorio. Esauriti tutti i punti all'ordine dei lavori, il Presidente alle ore 13 e 15 dichiara chiusa la seduta. Non so se i consiglieri hanno altre richieste di modifica. rispetto a questo verbale, oltre a quelle che ho fatto in lettura. Se no, vedendo che c'è anche l'assessore Tranquilli, che saluto e ringrazio, possiamo concludere e approvare il verbale. Ok, senza proteste, quindi verbale approvato. Allora, buongiorno Assessore. Buongiorno, io vi. Allora, noi abbiamo ripreso anche, diciamo, visto, diciamo, quel che è successo in Consiglio, abbiamo deciso di riprendere, insomma, la risoluzione, quelle sulle officine municipali, per, diciamo, riformulare, diciamo, l'impegno, fermo restando la volontà, ovviamente, del municipio, di tutta la commissione, sostanzialmente, di partecipare comunque alla manifestazione di interesse. Quindi, insomma, l'assessore è stato così gentile, come dire, partecipare in audizione, concordare anche, diciamo, la presenza, anche se con così poco preavviso. Quindi, io lascerei subito la parola all'assessore, condivido l'atto appena lo trovo. Mi sentite? Sì, io lo sento. Non so, un po' lontana, forse. Eh, sì, è il problema del più del municipio. Mi sentite lontana, quindi? Un po' lontana. Allora, se mi dà un secondo, mi collego dal telefono. Va bene. Sì, allora, aspettiamo. Ok, allora. Intanto approfitto, vi condivido la manifestazione di interesse. Aspettate che non la trovo. Ok. Ok. Ammettiamo l'assessore tranquilli. Ok. Proviamo così. Ok, perfetto. A sentire? No, molto meglio. Eh, beh. I votanti e mezzi della pubblica amministrazione. Allora, innanzitutto io vi ringrazio, ma ringrazio soprattutto il presidente Ecca per il ritiro dell'atto. È stata una richiesta, diciamo, non era scontata l'ok. Ovviamente non c'erano problemi, non ci sono, continuano a non esserci problemi nell'adesione. L'unico tema era il luogo, perché il luogo indicato, che avevate indicato come commissione, ed era giusto, secondo me, riportarla all'interno della stessa commissione, questa discussione, perché cambia, diciamo, anche, potrebbe cambiare anche l'idea stessa della... Io sono partita, eh, presidente? Sì, 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 è perfetto. Ok, così la spiego anche, perché non è stata assolutamente una forza dura, è stata una richiesta data dal fatto che il casale di Via Tullio Viola è pieno, è occupato da diverse attività legate ai più giovani. Come sapete, abbiamo partecipato ad un bando regionale sempre per quel casale, per creare nella parte, diciamo, destra del casale, un centro, vero e proprio centro di aggregazione giovanile, dove in questo momento, invece, ci sono delle attività per lo più finanziate con la legge 285, attività sempre destinate a bambini e ragazzi, ma gestite da cooperative appunto accreditate che hanno vinto dei bandi, quindi sono attività specifiche mirate per bambini e per ragazzi. Non c'è una auto-organizzazione rispetto a un centro di aggregazione. Cosa differente, invece, con il bando appunto Lazio Aggrega, a cui abbiamo partecipato lo scorso mese, che era passato anche in questa commissione, quindi, diciamo, c'era questo tema qui. Partecipare ad un nuovo bando sempre con quel casale andava a riempire eccessivamente e probabilmente anche a legare piani differenti che invece è giusto slegare ed è giusto, crediamo, tutti quanti, diciamo, riempire in spazi anche differenti del nostro municipio. Per questo motivo, mi dispiace non avere sotto mano perché non ci siamo riusciti a coordinare con l'ufficio tecnico, la dottoressa Fiumelli è impegnata adesso in una riunione da prima, da questa mattina, quindi non ci siamo riusciti a coordinare, ma volevo portarvi le slide di quest'altro posto che avremmo identificato. quest'altro posto è il centro di Via Gadda, numero 180, è un luogo, diciamo, in consegne, totalmente in consegne al nostro municipio, un'ex scuola media, che al piano superiore è completamente inutilizzata. Al piano di sotto ci sono già delle attività e dei servizi che vengono erogati sempre sul piano sociale, mentre il secondo piano è completamente vuoto. È un luogo, è uno stabile in cui ci sono già dei fondi destinati in bilancio per il rifacimento, quindi visto che il mando richiede anche un 20% di partecipazione economica da parte del municipio, siamo già già coperti da quel punto di vista, ed è un luogo che va a completare anche dei servizi in uno spazio come quello di Laurentina Pontustiense che mancano all'interno di questo territorio. Oltretutto stiamo parlando di un quartiere collegato, non benissimo collegato, ma comunque adeguatamente collegato anche ad altri punti del municipio, in modo tale che, visto che le officine municipali riguardano i ragazzi in parte, ma riguardano soprattutto i lavoratori in generale, quindi è essenziale anche che ci sia, come richiesto anche dal bando, come scritto anche nell'avviso pubblico, che ci siano i modi differenti di poter arrivare a questo spazio che non siano soltanto l'auto privata, quindi anche con i mezzi pubblici o con il trasporto, per esempio con le bicilette o altro tipo di trasporto, quindi anche quello diciamo era un ragionamento che anche con il Presidente Ecca facevamo, ed è uno spazio sufficientemente grande. Io purtroppo in questo momento i metri quadri non ve li posso dire, però sono sicuramente, dovrebbero essere più di 100 metri quadri, e non ve li posso dire perché appunto non ho queste slide, mi è stato fatto vedere, ma non me le ero appuntate e quindi volevo riportarvi le slide, e quindi la proposta è quella di andare a sostituire nell'atto che è stato già redatto, via Tullio Viola con lo stabile al secondo piano di via Gadda 180. Aggiungo soltanto una piccola cosa, mancano, ed è importante che venga messa, in questo momento ci sono delle barriere architettoniche, perché non è presente un ascensore e non sono presenti dei, mi sfugge il termine, delle montascale, gli elevatori insomma. Esatto, gli elevatori diciamo per, ma con l'ufficio tecnico appunto quando abbiamo parlato nei lavori di manutenzione che verranno fatta c'è anche quella, c'è l'ipotesi che sarà assolutamente realizzata, quella di mettere anche questi montascala. O un ascensore, ma un ascensore ha un costo eccessivo, oltretutto appunto poi verrà fatta una valutazione su questo, ma un ascensore esterno, perché ovviamente solo esterno potrebbe essere, perché la struttura appunto non la prevede internamente, potrebbe avere un costo, però dopodiché quello che gli abbiamo richiesto, che gli ho richiesto io per prima, è che comunque diciamo ci sia l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché anche se non è un luogo sociale, quindi non è che, diciamo, non necessariamente, non stiamo parlando di un centro di aggregazione dove noi tendiamo, diciamo, o delle attività per i bambini e per i ragazzi, in cui comunque c'è sempre una quota, diciamo, aperta ai ragazzi e bambini con disabilità, in ogni caso le barriere architettoniche devono essere, in ogni caso, anche se non è scritto, diciamo, credo che sia opinione comune che non sia più accettabile, quindi diciamo anche questo è stata una delle cose che le abbiamo chiesto all'interno dei fondi appunto che ci sono già, di inserire anche questa possibilità di lavori. Per quel che riguarda il progetto, l'unica cosa che, diciamo, vi proponiamo come giunta, una proposta che viene direttamente dalla Presidente di aggiungere rispetto alla risoluzione, ma rispetto al progetto in generale, che è previsto tra l'altro dal bando stesso, è il babysitting, cioè questa è una delle cose, diciamo, che tra l'altro è presente anche, è presente nelle nostre linee programmatiche, di aprire dei punti e quindi questo si rientrerebbe in questo bando, diciamo, perfettamente, dei punti di babysitting, rientra proprio nel bando perché è scritto anche lì, dei punti di babysitting dove i genitori, i lavoratori, insomma, le mamme e i papà lavoratori, possano, nel mentre lavorano, lasciare i propri bambini. E quindi anche su questo, diciamo, ragionare insieme poi all'interno del progetto, che tanto per ora ho visto dal bando, è abbastanza, diciamo, breve e schematico, poi si fa sviluppare in un secondo momento, però inserire, c'è la proposta di inserire anche questa questione. Quindi grazie veramente per aver accolto il ritiro e vediamo, insomma, se anche questa proposta vi convince e così abbiamo i tempi, i giorni necessari per poterla presentare. Grazie Assessore, io mi permetto, faccio un rapido recap. Praticamente si tratta di un avviso per manifestazioni di interesse, per cui non è la presentazione del progetto intero, ma è solamente l'alzare, diciamo, il dito e dire il municipio nono è interessato a partecipare all'avviso pubblico, subisce una prima scrematura, se passa la prima scrematura si può, anzi, si deve presentare il progetto nella sua, diciamo, totalità. Quindi, insomma, per adesso si tratta di alzare il dito, sostanzialmente. Assessore, se posso condividere, diciamo, la piantina, anzi, prima vi faccio, vi condivido la risoluzione così come l'avevamo predisposta, quindi c'era solamente il passaggio questo, valutando in primis il casale in via Tullio-Viola, che sostanzialmente si cancella, anche perché, come ha detto l'assessore, diciamo, gli spazi non sono disponibili e si inserisce, diciamo, il casale in via... è l'edificio più che il casale, l'ex scuola in via Gadda. Se l'assessore mi consente, io volevo condividere anche la mappatura degli immobili di pertinenza del municipio. Sì, sì, certo. Ok. Allora, questo è sostanzialmente all'interno del patrimonio del municipio, quindi stiamo... zona... questo è, per capirci, il centro el-samorante, il centro culturale, la rotonda, questa è via Carlo Levi, via Ignazio Silone. L'edificio, di fatto, di via Gadda è questo, al civico 180, che è classificato come ex scuola elementare, quindi l'edificio polifunzionale. Per capirci, diciamo, il contesto dove dovrebbe essere... diciamo, chiediamo che sia inserito il... l'officina municipale. Allora, prego consigliere Alleori. Grazie, Presidente. Mi verrebbe da dire, ci voleva l'assessore Tranquilli per fare chiarezza su questa situazione, perché quello che avevo pure dibattito in consiglio non capivo, questa risoluzione che era stata votata, se non ricordo male all'unanimità dalla Commissione, era tre volte che non riceveva il voto da parte dell'Aggiunta e non capivo il motivo e perché questo non avveniva del parere della Giunta e soprattutto perché poi la stessa maggioranza in consiglio, quando l'atto è arrivato, è stato richiesto il ritiro e giustamente il Presidente Ecca ha ritirato la risoluzione per fare gli approfondimenti del caso, che oggi con il suo intervento l'assessore Tranquilli ci ha spiegato molto bene che il fatto che l'Aggiunta non avesse dato per ben tre volte il parere era legato semplicemente non alla condivisione dell'atto in se stesso, ma solamente per un'obbligazione a livello, diciamo, di edificio. Grazie. Grazie, consigliere. Non so se ci sono altri consiglieri, non mi sembra che ci siano altre mani alzate, quindi allora la proposta è di fatto, mi sembra condivisa da tutta la Commissione, quella di sostituire il casale di Tullio Viola con il casale di Via Gadda 180. Mi sbaglio sempre, con l'ex scuola elementare, scusate l'Apsus, di Via Gadda 180. Sull'inserimento, diciamo, del babysitting, assolutamente sì, d'accordissimo. Io non mi ricordo, ma non mi sembra che nella manifestazione, nella scheda di manifestazione di interesse si doveva elencare, nel caso in cui anche le singole attività, nel caso in cui assolutamente. Penso anche a nome di tutti i commissari, insomma, che non ci siano problemi, anche perché è una zona oggettivamente in cui manca quel servizio, quindi sarebbe... ma non mi ricordo se avete la pazienza di vedere, aspettare un attimino... eccola qua, vediamo insieme il format della manifestazione, anzi ve la condivido su Timps, quindi eccola qua, officine municipali, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, ovviamente l'identificativo di chi fa la manifestazione di interesse, dichiara di accettare, quindi come vedete di essere informato e si allegano la descrizione sintetica dell'idea progettuale è, diciamo, è basta. Vediamo la bozza scheda idea progettuale allegato B. Allora, descrizione del contesto di riferimento, massimo 20 righe, descrizione dell'idea progettuale in coerenza con l'articolo 3 dell'avviso, quindi le modalità di realizzazione impostazioni, i servizi, sì, attivazioni di servizi aggiuntivi per i cittadini, quindi nelle 30 righe sicuramente il servizio di babysitting potrebbe essere menzionato in questo passaggio, i destini italiani che verranno coinvolti, descrizione delle collaborazioni da attivare per la realizzazione del progetto, se vi ricordate anche c'è la possibilità anche di, diciamo, di coinvolgere i sindacati e gli enti territoriali, descrizione del luogo individuato, naturalmente qua, in 20 righe la specifiche dell'immobile, in nostro caso, di proprietà, insomma. Con un riepilogo dei costi molto, come dire, basico, quindi insomma, quattro voci. Prego, Assessore. No, tra l'altro adesso, stavo vedendo, perché c'è anche servizi di promozione del territorio, no? Sì. Vedevo la distanza tra la scuola Lipparini, che serve appunto via Giuseppe Lipparini, e via Gadda 180, sono 500 metri. Noi sulla Lipparini, come sapete, stiamo investendo per far sì che quell'ex scuola diventi un polo di innovazione, un polo anche d'arte. Quindi, poi capire, ovviamente, diciamo, non nell'immediato, perché come diceva anche adesso il Presidente, è a titoli, in un certo senso, il progetto che va messo, però capire anche quei posti come si integrano, io credo che sia importante. Questo ora ve lo lascio, diciamo, come tema, che poi andremo a sciogliere, diciamo, proprio nella creazione vera e propria del progetto, però penserei proprio anche ad un'integrazione con quello che verrà dentro l'ex scuola Lipparini. Assolutamente sì, anche se posso aggiungere con il centro culturale Samorante, che sta anche questo, perché in realtà stiamo in una centralità culturale, in qualche maniera, no? Esatto, esatto. Che si manifesta in tre modi differenti, ma stiamo sempre attorno a questo tema, approfittando anche della vicinanza della riserva naturale del Laurentino Acqua Aceto Sostiense, che, insomma, in parte passa, saranno 50-60 metri, quindi, insomma... Dentro del Samorante sono 10 minuti, vedo sempre da Google Maps 10 minuti a piedi, cioè noi parliamo, la città dei 15 minuti, no? Esatto. Il prototipo l'abbiamo fatto su Spinaceto, perché lì c'era bisogno di un investimento ben preciso su un centro che, come sappiamo, è in disuso e in caduta libera, e quello era necessario che l'investimento fosse là. L'Aurentino assolutamente ha bisogno di investimenti, ma ha anche bisogno di investimenti che non siano solo economici, che quelli sono importanti, ma anche, diciamo, di visione, che c'è già all'interno dello stesso quartiere, il quadrante, quindi se riusciamo ad unire pezzi, cioè dare una visione integrata e non ripetere le cose, cioè far sì che il centro culturale del Samorante abbia un suo, diciamo, statuto ontologico. Emilio Gadda 180, la stessa identica cosa, e la Lipparini, la stessa identica cosa, nel senso che ce n'abbia un altro, e la Lipparini un'altra ancora. Così che si crei, diciamo, un'unione di servizi e di visione anche. E quella costruita, secondo me, passo passo, costruiamo tutti i pezzi per metterli insieme. Assolutamente d'accordo. Ricordo, da questo punto di vista ci potrebbe essere anche utile, il fatto è che dentro il prullavorentino, diciamo, è prevista il completamento della ciclabile che dalla rotonda di Carlo Levi, da questa, diciamo, in bassa a sinistra, porta, di fatto, si allunga fino a qua. Da questo punto di vista, visto che tra le cose previste nell'avviso pubblico, per manifestazioni di interesse, per officine municipali, ci può essere anche una stazione bici per riparazione e sostituzioni, potremmo anche, diciamo, cavalcare da questo punto di vista il fatto che sarà un territorio che si unirà anche attraverso la mobilità dolce, e quindi dare un servizio anche da questo punto di vista. Quindi, no, si può sicuramente valorizzare in diversi modalità la scelta. Ok, no, se non ci sono, tolgo la condivisione. Magari, ecco, nel frattempo che si prepara, diciamo, ci si preparerà alla seconda fase dell'avviso pubblico, quella della predisposizione, no, del progetto vero e proprio, sperando, ovviamente, che la manifestazione di interesse abbia esito positivo, magari chiedo all'assessore, magari ci inaudizione nuovamente in commissione e concordiamo insieme cosa, come impostare il progetto, insomma, nella sua fase proprio definitiva. Benissimo. Non so se qualcun altro... Sì, sì, adesso sì. Vedevo che aveva problemi con il microfono. Maniera tale che intanto partecipiamo alla manifestazione di interesse, che scade relativamente a poco, insomma, sono 3 luglio, quindi stiamo parlando di una sette giorni, sei giorni, ma di cui alcuni di festa a Roma, quindi, insomma, c'è una differenza, diciamo, come dire, necessità di accelerare da questo punto di vista e poi nella fase di costruzione del progetto, sono sicuro che poi la manifestazione di interesse ha buone possibilità di essere accolta, magari la elaboriamo in tutti insieme, anche immagino, non so, con la commissione quinta, patrimonio, non so, adesso valuteremo insieme all'assessore il modus operandi migliore per predisporre il progetto, poi l'assessore è bravissimo, insomma, ha esperienza anche nella scrittura dei progetti, quindi potremmo tranquillamente dare una collaborazione a quella che è la sua esperienza. L'esperienza data da questo municipio, ormai può... Vabbè, si inizia sempre da un certo punto e poi si continua. Preparo un master adesso di queste cose, scherzo ovviamente, scherzo fino a un certo punto. Va bene, se non ci sono altri interventi dei commissari, io direi chiudiamo così per adesso officine municipali, quindi partecipando comunque alla manifestazione di interesse e poi predisponiamo, diciamo, in un secondo momento insieme all'assessore il progetto esecutivo. Ok, ti tace, come sempre, a consente. Benissimo, allora io vi saluto. Grazie, assessore, sempre della disponibilità soprattutto. Grazie a voi, grazie al presidente anche, soprattutto. Grazie. Buon lavoro a tutti e a tutti. Grazie. Tutti i maschi qua. Tutti i maschi, purtroppo sì. Va bene, buon lavoro. Grazie. Ok. Così abbiamo chiarito, diciamo, e risolto la situazione. Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che era la disamina, chiesta giustamente anche dal consigliere Cucunato, dei punti, diciamo, affrontati dalla commissione, diciamo, nei mesi scorsi, e che per valutare se e come, diciamo, avevano dato esito e a che punto stavano. Da questo punto di vista, scusate il gioco di parole sul punto, vi condivido, come vi avevo anticipato, anche in maniera informale via chat, la bozza di relazioni, mi scuso col presidente Bedoni, che la riceverà poi in maniera ufficiale a scadenza, quindi a fine, diciamo, a luglio. Però, insomma, questa è la bozza di quello che è stato fatto finora dalla commissione, che ci serve anche alla commissione stessa per monitorare l'andamento dei progetti eventualmente presentati e che, e quindi capire a che punto stiamo nella, diciamo, nell'itere di approvazione, se sono stati approvati, se non sono stati rifiutati, se sono stati riformulati e via discorrendo. Brevemente, il punto primo è quello di avvicinamento dei cittadini e istituzioni europee, quindi, ve lo cito solamente, i due interventi di, sul midterm di Horizon Europe organizzati dall'Apre, è appunto la mappatura dei far bisogno di fondi europei che abbiamo, su cui abbiamo lavorato a marzo e poi per concentrarsi poi invece al punto due, che sono i progetti presentati, in prima persona giuridica dal municipio e proposti dalla commissione per fare, diciamo, una valutazione dei singoli interventi. Io vado per punti e poi naturalmente si apre la discussione e si vede, diciamo, di eventualmente ricalibrare, se è necessario, diciamo, l'organizzazione della commissione stessa e soprattutto magari chiamare in audizione gli uffici per capire a che punto stiamo. Allora, sul avviso pubblico di Lazio Aggrega, attività da svolgere nel centro giovanili, ancora, diciamo, il bando era stato prorogato al 30 di maggio del 2023 e quindi non sono state ancora, non è ancora stato formulato nessun risultato. Presumibilmente si parlerà di settembre come una data possibile, secondo me, in cui si saprà l'esito. Il Creative Living Lab, come vi ricorderete, scusate l'italiano, abbiamo, diciamo, partecipato, stiamo anche qua, ancora qua, in attesa di risultato. È passato un po' di tempo, ma neanche troppo, perché, diciamo, il bando scadeva d'aprile, quindi, insomma, mediamente si parla di sempre sei mesi, quindi anche qua stiamo sul limitare. La call for proposal, quella del Parlamento europeo, per le azioni di coinvolgimento di cittadini nel settore della comunicazione in vista dell'elezione europeo, che avevamo strutturato, se vi ricordate, in maniera, come dire, rafforzativa dell'altro progetto Europa e Municipio, proposto da Europe Direct di Roma 3, diciamo, è in itinere, poi la Commissione, abbiamo fatto tutti gli esami del caso per valutare le forme di cofinanziamento, il famoso 20% che poi la Commissione ha riconosciuto, poter essere, diciamo, utilizzato lo staff cost e quindi, diciamo, stiamo in fase di redazione della call for proposal e, allo stesso tempo, anticipo anche il punto successivo, il protocollo Europa e Municipio, il progetto, come ben sapete, perché abbiamo avuto in audizione, in anteprima, il primo municipio in assoluto di tutta Roma, Europe Direct, e quindi stiamo su, diciamo, stiamo predisponendo il tutto, in realtà il progetto in sé è già pronto, l'obiettivo, come sempre, anche in accordo sia con l'assessore Angelucci che con l'assessore Tranquilli e di partire per la riapertura dell'anno scolastico, quindi verso ottobre. L'esame, invece, delle modalità dei fondi accessori al PNRR, per adesso, diciamo, non sono pervenuta la Commissione, almeno anche nell'esame posta. Progetti già elaborati, che però magari non erano stati finanziati negli anni passati, sto cercando di recuperarli, quelli di cui sono a conoscenza, l'invito è a tutti i commissari, come sempre, se sapete di progetti che negli anni scorsi non erano stati presentati, finanziati, scusate, ma sono sostanzialmente già pronti, lì abbiamo l'impegno sia da parte del direttore Barbato che da parte del presidente di caudo della Commissione PNRR Capitolina di raccoglierli e riproporli in uno dei canali, diciamo, qua identificati o in altri canali. e poi abbiamo officine municipali, di cui abbiamo parlato Teste. Questo, diciamo, è il quadro dei progetti a cui la Commissione, nell'ultimi sei mesi, cinque mesi e mezza, ha lavorato. E vi ho fatto un, come dire, un sunto della situazione. Poi, per il resto, la relazione, poi la rivedremo a fine luglio, insomma, quando sarà completa. Però è strutturata sempre per punti, quindi l'esame dei potenziali stakeholder, gli interventi, questa volta a favore dell'agricoltura, su cui abbiamo lavorato molto, gli interventi a favore della transizione ecologica, gli interventi a favore della transizione digitale, con anche, diciamo, il progetto Appia, come vi ricorderete, anche là stiamo addirittura ad arrivo con la firma stipula del protocollo, con la società, diciamo, dopo la valutazione dell'offerta di quello che c'è nel mercato e quindi si pensa che, diciamo, in autunno, massimo gennaio, si riesca a partire col progetto Appia. E' la parte del Giubileo in cui la gran parte del lavoro è stato svolto dalla proposta della Via Francigena, che ha valorizzato, diciamo, occupato parte, buona parte, della parte dei fondi Giubileo. Tutti i municipi, anche il primo e l'ottavo, hanno predisposto, chi è un atto di giunta, chi è un atto di consiglio, comunque sia, sono pronti, stiamo raccogliendo, diciamo, la documentazione per poi formulare, in questo caso, non il progetto, perché l'avevamo già stabilito, no, se vi ricordate la mappa, con il sentiero, ma, diciamo, stiamo predisponendo la documentazione per l'invio, per la valutazione dell'Associazione Europea via Francigene. E poi basta, perché questo è l'esame clamonico, tipo d'onte, dei punti di forza e delle criticità riscontate. Allora, soprattutto sul punto due, ma naturalmente, su tutti i punti, sui progetti, anche citati nelle altre parti. Consiglieri? Che vogliono intervenire? Riflessioni? Fermo restando la tempistica dei progetti, che si parla sempre che oggi presento, ma l'esito, l'attuazione, la vedo. Se tutto va bene, viene accolto almeno dopo un anno. Consigliere Cucunato, sei soddisfatto del quadro? Direi di sì, Fabio. Perfetto. Auspicabilmente, appunto, a settembre potremmo vedere qualche cosa, diciamo, applicativo. Settembre-ottobre. Poi, Presidente Bedoni, a luglio le invio, come da decreto istitutivo della Commissione, tutta la relazione completa, naturalmente. Va bene. Allora, se non ci sono altri interventi da questo punto di vista, possiamo dichiarare concluso anche il punto 3 all'ordine del giorno. Non mi sembra che ci siano le mani alzate, quindi passiamo al punto 4 che è una cosa, secondo me, molto interessante, è il bando ossigeno 2023. Eccolo qua. Allora, in accordo con l'assessore Gregori, che, come ricorderete, ha l'interim anche della deleghe ambiente, e per transizione, appunto, la transizione ecologica, di cui, di fatto, il progetto ossigeno fa parte, la Regione Lazio ha aperto, utilizzando i fondi indiretti europei, una nuova call, una nuova chiamata, per raccogliere, diciamo, manifestazioni di interesse per il rimboschimento di arie verdi del territorio del Lazio. In particolare, dividendolo tra Lazio e Roma, quindi dedicando due differenti bandi, tra di loro strutturati in maniera simile, quello che ho messo in condivisione è il bando relativo, il progetto relativo a Roma capitale, al territorio di Roma capitale. Quindi è la piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio, in particolare nell'8.1, quello di Roma capitale. Allora, ve lo faccio vedere brevemente, fermo restando che due accorgimenti. Primo, non è l'unica attività di rimboschimento, per cui, ad esempio, rimboschimento nel territorio è previsto anche, con fondi PNRR e con i fondi del decreto clima. Sicuramente il decreto clima, diciamo, riguarderà anche il nostro territorio, perché, insomma, la zona di Spinaceto. Ma quello poi lo andremo a vedere in un secondo momento, insomma, quando avrò tutte, diciamo, le risposte, perché le piantumazioni, ovviamente si parla di, piantumazioni, che nel rispetto dei tempi della natura, dalla seconda metà di ottobre fino a tutto, diciamo, dicembre, forse qualche cosa anche a gennaio, dipende dalle condizioni ambientali. Quindi, abbiamo tempo. Quindi, la determina è quella di approvare questo secondo avviso di manifestazioni di interesse. Il municipio partecipò al primo avviso pubblico, sempre dell'ossigeno, nel 2022, primi mesi del 2022, con l'assessore Lepidini. Allora, quindi, c'è l'elencazione della documentazione che deve essere, diciamo, prodotta, che è importante, e c'è la, eccolo qua, l'avviso pubblico, che è la parte più interessante. Allora, questa è la premessa. Come vedete, è la stessa mutuata, pari pari, dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Quindi, rimboschimento urbano e periurbano nel territorio regionale, quindi la messa a dimora di alberi e arbusti di origine prevalentemente autoctona, al fine di contrastare i cambiamenti climatici in atto, legacy, non c'è scritto, ma lo dico io, anche le isole di Gallore, quindi, diciamo, c'è una direttrice non detta di attuare opere di imboschimento prevalentemente e preferibilmente vicino a zone densamente abitate e densamente urbanizzate. Quindi, appunto, la strategia nazionale del verde, insomma, tutti i riferimenti di come è stata, lo Stato italiano ha già recepito le indicazioni europee in termini di rimboschimento e qua, eccola qua, intende promuovere amministrazione condivisa delle piante messe a dimora quale bene comuniche per educare la cittadinanza a prendersi cura del proprio territorio e del proprio patrimonio. Chi può proporre sono gli enti pubblici o di diritto pubblico, scusate, tra cui le amministrazioni comunali, municipi di Roma, capitale, quindi noi possiamo proporre insieme a tanti altri o anche gli enti di terzo settore. Il beneficiario deve dimostrare la proprietà dell'aria e il possesso delle autorizzazioni previste dalla legge. Essendo una raccolta di manifestazioni di interesse di fatto per adesso si segnala solamente le aree in cui c'è la messa diciamo si richiede la messa a dimora di alberi e arbusti. Quindi quali sono gli alberi e arbusti sono quelli dopo lo andiamo a vedere comunque sono ben identificati nel protocollo della regione Lazio. si tratta di piantine però ve lo dico non più alte di 18 centimetri quindi si tratta di piantine piccoline perché amministrazioni condivisa necessitano di innaffiamento e tutela nel meno i primi due anni di vita ed è quindi particolarmente favorevole diciamo si richiede la copartecipazione in questa attività di tutela almeno nei primi due anni anche dei cittadini quindi che cosa si diciamo possono prevedere i progetti la messa a dimora delle piante con l'eventuale stirpazione dei ceppaie quindi anche alberatura stradale ma adesso vediamo l'intensificazione della piantumazione nei parchi esistenti laddove c'è stata magari una penuria o alcuni alberi magari si sono malati e sono stati magari abbattuti la realizzazione o la valorizzazione di piccoli giardini spazi verdi di quartiere quindi non solamente aree verdi di grande estensione ma piccoli anche piccole aree verdi alberature stradali come vi dicevo impianti di piazze viali svincoli rotatorie quindi anche pochi alberi alberi di frutto e norti urbani diciamo questa è stata una richiesta da parte di orti in comune e delle altre organizzazioni di orti urbani presenti nella regione alberature non a scopo produttivo su terreni agricoli le siepi e filari campestri magari vicino ai cimiteri vicino ad alcune zone anche per fare barriere acustiche o diciamo anti anti inquinamento l'intensificazione spallette baschive noi abbiamo qualche bosco l'azione di forestazione o di ferra sezione azione di recupero di zone degradate ex aree industriali o commerciali cave parcheggi aree di servizio agli insendimenti urbani allora va bene ci stanno tutta una serie di condizioni tecniche a cui si deve adempire diciamo quando sono diciamo si richiede eccolo qua come vi dicevo si parla di piantine piccoline questo è quello che non si può richiedere di fatto tutto quello che non è impiantumazione di alberi non si può richiedere aspettate ok questa è la parte di condivisione della città ci stanno i soldi un milione cento ottanta mila euro diciamo così c'è appunto la scadenza che entro il 31 dicembre di quest'anno abbiamo tempo ma vi ho ricordato i tempi biologici per cui le piantumazioni è meglio che si facessero dalla seconda metà di ottobre novembre dicembre qualche cosa anche a gennaio e questa è la documentazione da produrre ora questi sono gli obblighi vi faccio vedere tutto quindi il beneficiario sarebbe il municipio se decidesse di partecipare normalmente il municipio quindi l'elenco delle specie che si vogliono piantumare poi andiamo a vedere ma sono quelle canoniche autoctone mediterranee sostanzialmente il capitolato tecnico con accanto il listino di prezzi di riferimento che è fornito diciamo dalla stessa regione Lazio la cosa più importante è il fatto che possono si può presentare un solo progetto ma quel progetto può essere articolato in più interventi territorialmente distinti quindi il municipio presenta un progetto ma potenzialmente sui 53 quartieri che lo caratterizzano ok esclusivamente azioni di volta a implementare la biodiversità e a ridurre gli squilibri ambientali e via discorrendo ora perché vi faccio vedere questo avviso pubblico questo è il piano di manutenzione innanzitutto per avviare una riflessione con la commissione e poi anche da portare anche all'assessore Gregori su eventuali aree o interventi che voi vorreste riqualificare attraverso la piantumazione di alberi alle condizioni però che ho detto quindi la condivisione con la cittadinanza con un patto diciamo utilizzando anche eventualmente il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comunali dei beni comuni scusate comunque sia con la collaborazione dei cittadini soprattutto nelle attività di come dire innaffiamento perché il beneficiario leggo dovrà garantire la manutenzione post trapianto delle piante per un periodo minimo di 24 mesi dal collaudo quindi che cosa vuol dire tutte le attività svolte a garantire il corretto sviluppo delle piante e il mantenimento delle stesse in buono stato vegetativo ok questo è quanto la predisposizione del piano di irrigazione sempre a carico del beneficiario il piano di sfalcio le potature eventualmente necessarie anche se le piantine sono piccoline quindi teoricamente non dovrebbero essere necessarie il controllo e l'adeguata eventuale risistemazione dei pali di sostegno l'eventuale ripristino della verticalità delle piante il controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere e la predisposizione di adeguate protezioni di calpestio questo è quanto quindi la raccolta anche di arie io normalmente in mente ne ho alcune alcune segnalate dai comitati di quartiere quindi tendenzialmente poi anche con un patto che si può stabilire con loro però lo offro a tutti i commissari la segnalazione possiamo tranquillamente raccogliere la segnalazione da parte loro anche di altre aree che mi sono sfuggite per la piantumazione ripeto solo esclusivamente di alberi e arbusti non per altri tipi di interventi quali arredo urbano sistemazioni di vialetti o di marciapiedi o altro prego commissari provate tutto su teams naturalmente l'avviso pubblico vi lascio un pochino di tempo per riflettere nel frattempo che riflettete vi faccio vedere l'elenco degli alberi questo è il sito della regione Lazio dedicato all'ossigeno la tipologia di alberi che si può richiedere la piantumazione è elencata qua queste sono arbusti tra cui anche quelli insomma rosmarino cinepro fiburno insomma quelli lentisco quelli classici da macchia mediterranea gli alberi sono questo si va dalle sughera al leccio corbezzolo l'albero di giuda e via discorrendo non ve li elenco tutti le trovate all'interno dell'avviso pubblico nel link che avete visto in condivisione questo è per capire diciamo si può scegliere all'interno di questi alberi questi sono quelli naturalmente da frutto destinato per lo più agli orti urbani ovviamente se un soggetto terzo che non gestisce orti urbani vuole richiedere alberi da frutto non penso che gli dicano di no questo è per il passaggio paesaggio collinare non sono molto differenti cambiano alcune tipologie di pianta sia come arbusti che come cosa e c'è l'ultimo passaggio ok questo è il montano che non ci riguarda a noi per ogni pianta avete anche una specie di scheda allora come vogliamo comportarci con questo avviso pubblico a cui secondo me il municipio comunque deve partecipare la mia proposta è raccogliere in questo mese di luglio la proposta in primo luogo dei commissari della commissione però normalmente estesa a tutti i consiglieri l'identificazione di alcuni delle aree di alcuni interventi e inserirle in un progetto unico come previsto nel progetto nell'avviso stesso consiglieri consiglieri sicuramente bisogna partecipare a questo bando non c'è dubbio è un'occasione che insomma il municipio non deve perdere ok se volete già suggerire identificare delle aree delle strade delle piarche quello che volete voi su cui pensate che si possa richiedere un intervento di piantumazione potete farlo anche adesso ok se non vi sono altre idee possiamo anche ritenere concluso anche questo quarto punto all'ordine del giorno ho detto anche i tempi vorrei raccogliere le proposte a luglio per diciamo formularle insieme poi all'assessore Gregori avere il tempo materiale anche per fare la manifestazione di interesse ok passiamo esame posta ma noi l'ho visto che non c'è varie eventuali confermi non c'è niente esatto confermo non è pervenuta posta perfetto allora vari eventuali allora non so come volete organizzare ve la pongo proprio come domanda ai consiglieri come volete organizzare le attività della questo mese di luglio in cui tendenzialmente partecipare avvisi pubblici o bandi risulta un pochino più complicato anche perché rischieremo di caricare eccessivamente l'ufficio Europa o gli altri uffici quindi tendenzialmente cercherei di evitare la partecipazione a bandi e avvisi pubblici per dar modo anche a loro di elaborare quanto già deciso e soprattutto riposarsi la mia proposta è visto anche quanto è uscito il nuovo dpcm dell'8 giugno 2023 per la seconda tornata dei fondi giubileo sto facendo un elenco sto estrapolando tutti gli interventi finanziati che ricadono non unici per richiedere alla società giubileo 2025 diciamo di essere chiamata in audizione a luglio adesso vediamo se e quando aderiscono però se i consiglieri hanno necessità e urgenze da sottoporre alla commissione siamo sempre qui che sono quindi non ci stanno necessità varie per me anche sulle varie eventuali nel senso vi ho detto più o meno come volevo lavorare nelle prossime quattro sedute insomma più o meno prima della pausa estiva che a occhio sarà sempre diciamo dopo la prima settimana di agosto anche se non c'è ancora comunicazione ufficiale presumo insomma presidente ebedoni mi può correggere ma presumo che sia attorno a quella data fabio scusa la pausa estiva è stata concordata e comunicata già allora mi è sfuggito a me me lo puoi ricordare eh no a memoria no c'è un mail me la recupero dalle mail dal 5 agosto al 27 eh dal 5 al 27 agosto ok allora per quanto riguarda il programma della commissione se poi lo puoi mettere al primo punto della prossima settimana così ci chiediamo anche le idee ci confrontiamo e magari il programma della commissione cioè gli interventi sì le attività diciamo di questo mese di luglio va bene programmazione delle attività nel mese di luglio va bene mettiamo come punto all'ordine del giorno come primo punto va bene sì sì dopo il verbale va bene grazie prego allora se non ci stanno altri interventi possiamo dichiarare conclusi i lavori della commissione alle 12 e 40 ok interrompo un secondo ok non ci stanno non ci stanno non ci stanno